salve a tutti in questo video andrò a spiegare come resettare brevemente la spia delle service del t max 5 30 del 2017 2018 come prima cosa andremo accendere il quadro premendo sul tasto on comparirà quindi la scritta oil che ci andrà a indicare che bisognerà effettuare il cambio dell'olio quindi dopo aver effettuato il cambio dell'olio andiamo a resettare questa spia come fare allora andremo a premere il tasto menu dopo aver tenuto il tasto menu per qualche secondo ci comparirà il menu quindi andremo a scorrere fino a manutenzione andiamo a selezionare il menu oil e premendo una sola volta il tasto menu ci si aprirà la pagina dei chilometri una volta selezionati i chilometri dell'olio andiamo a premere la freccia verso l'alto e teniamo quindi premuta la freccia verso l'alto una volta zerati i chilometri della spia dell'olio rilascieremo la freccia e abbiamo terminato grazie per la visione del prossimo video grazie per la visione grazie per la visione